Dal 17 luglio 2023 è partita l'iniziativa dedicata a te. Presso gli uffici postali è possibile ritirare una carta elettronica di pagamento prepagata e ricaricabile che permetta alle famiglie più colpite dall'inflazione, ovvero con reddito isi inferiore a 15.000 euro, di acquistare prodotti alimentari con promozioni dedicate dalle attività convenzionate. Dalla misura sono esclusi i cittadini che godono di altri contributi governativi. A Monopoli 1.555 nuclei familiari potranno beneficiare del contributo economico di 382,50 euro erogato una tantum. Il Comune però non ha ancora reso noto l'elenco ufficiale dei beneficiari, cosa che avverrà nel giro di qualche giorno. Bisognerà perciò ancora pazientare per il ritiro della carta. Per farlo occorre recarsi in ufficio postale in possesso della comunicazione del Comune di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. La carta solidale per acquisti di beni di prima necessità va attivata entro il 15 settembre 2023. Il titolare utilizzatore della carta dovrà infatti effettuare il primo pagamento entro questa data, per non perdere il contributo assegnato spendibile fino al 31 dicembre 2023.